Ottimo prodotto asciugamano da bagno. Asciuga molto bene. La Gabel è una marca buona. Molte persone si trovano bene. Non fatevi scappare questa occasione. Avete vasta scelta di colori. Ma solo il colore grigio. È Prime. E Black Friday. Gli altri colori non sono Prime. I primi 4 sono scontati. Gli ultimi 4 non sono scontati. A voi la scelta. Prodotto consigliato. Vi lascio in descrizione video il link affiliato Amazon.